E' stato un incontro proficuo, così è stato definito dal sindaco di Teramo d'Alberto il confronto avvenuto con il terzo commissario straordinario per la ricostruzione in quasi tre anni, il geologo e accademico maceratese Piero Farabollini, un appuntamento in cui il sindaco ma anche i gruppi consigliari hanno esposto la reale situazione della ricostruzione nel territorio comunale. Un incontro assolutamente proficuo, l'inizio di una collaborazione, oggi abbiamo rappresentato, proprio perché non vogliamo che sia sottovalutata la nostra realtà, non possiamo correre questo rischio e le esigenze non solo di Teramo città, della nostra città che ha dei numeri che conosciamo benissimo, ma di tutto il cratere sismico, un cratere che ha una situazione che dall'inizio è stata sottovalutata sul piano normativo, una delle cose che abbiamo chiesto al commissario è che possa essere rivisto il peso complessivo del cratere Abruzzo, chiamiamolo così per semplificare, nell'ambito del cratere complessivo del centro Italia. È un elemento importante per poter porre le condizioni per superare le tante criticità che viviamo di una ricostruzione che di fatto qui è ferma. E devo dire, ripeto, questo oggi è soltanto il primo incontro, è solo l'inizio di una collaborazione che sono certo, sarà operativa e funzionale a garantire delle risposte ai nostri cittadini. Il commissario Farabollini ha anche parlato della possibilità che le pratiche B, che a Teramo contano 850 faldoni, passino di competenza dei comuni. Questo per accelerare dove possibile le pratiche. Beh, questo è un discorso anche particolare perché non tutti i comuni hanno lo stesso numero di pratiche, per cui bisogna vedere anche come è distribuito questo valore. Anche su questo stiamo facendo una riflessione, ma questa riflessione deve venire anche dai comuni. Cioè i comuni devono essere in grado di poter dire, beh, noi siamo in grado di supportare questo. Se i comuni questo sono in grado di poterlo fare, sarà sicuramente uno dei tentativi o comunque un ragionamento da fare insieme a OSR, insieme ai vice commissari e tutti quelli che in qualche modo appunto lavorano per questa ricostruzione. Grazie. Grazie.